Ciao a tutte ragazze, questa è la mia partecipazione al concorso di Miss Lilligal, Eleonora, che ti saluto. Io sono X Salsera Loca X, il concorso è la danza e io ho scelto il tango. I colori del tango sono il nero e in particolar modo il rosso. Come potete vedere ho fatto delle labbra rosse, un trucco molto marcato sugli occhi. Spero che vi piaccia e vi rimanda le foto. Un bacione a tutte, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!